Ed ecco a voi l'area relax della Grimaldi Auto SPA di Vigevano. Pensate, adatta sia a grandi che a piccini. Abbiamo un grandissimo spazio per far guardare la televisione anche ai bambini, che vogliono vedere i loro cartoni animati preferiti. Un distributore di bevande calde, fredde o anche a temperatura ambiente. Radio con filo di fusione. Queste poltroncine sono le sette meraviglie del mondo. Sono veramente di una comodità, quasi quasi da rilassarsi fino ad addormentarsi. Pensate anche di avere le prese per attaccare il vostro PC o smartphone o qualunque altro accessorio abbia bisogno di elettricità per stare qui ed avere tutti i dispositivi sempre aggiornati e collegati. Ovviamente da noi, wifi free zone in tutta la concessionaria. Espresso, cappuccino, cappuccino con cioccolato, tè al limone. E veramente potete stare tranquilli di trovare quello che cercate. Snack, bibite, tè. E anche uno sguardo all'ambiente, perché Grimaldi Auto fa la raccolta differenziata. Bisogna sempre essere un po' verdi. Riviste da leggere e tanta sana tranquillità. Vi aspettiamo!